Dal giorno in cui sono nata, ha sempre avuto cura di me. Mi ha sostenuto e dato le risposte che cercavo nei diversi passaggi della mia vita. Mi ha fatto capire che ho bisogno di controlli e attenzioni speciali e che la mia salute di donna dipende anche da me. Il Servizio Sanitario Nazionale è vicino ad ogni donna, con specialisti e screening gratuiti. Chiedi al tuo medico e informati su www.salute.gov.it Grazie per la visione!